Ti prego. 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 Guarda, è dall'altra parte della punta dei coragli. Anche tutta. Ha 30 o 40 metri di profondità. Bene. Tu devi scendere fino laggiù e entrare in una specie di tunnel. Ma sta attenta, nuota piano, molto lentamente, mi raccomando. E appena lo vedi, colpiscilo in mezzo agli occhi. Va bene. D'accordo? Sì, quero. E allora, la faccia, la faccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La signora!